S'attende la prima riunione del Parlamento in seduta comune per dare il via alle operazioni di elezione del Capo dello Stato. Attesa per domani 4 gennaio la lettera con cui il Presidente della Camera, Roberto Fico, convoca i 1.9 grandi elettori. 321 senatori, 630 deputati, 58 delegati regionali. Nei primi tre scrutini occorre il quorum dei due terzi componenti dell'Assemblea. 673 voti, dal quarto alla maggioranza assoluta 505. Per evitare assembramenti, i tecnici di Montecitorio stanno valutando il voto a fascia oraria, con sanificazione dell'aula e distanziamenti nelle aree comuni.